In questo video rispondo a una delle domande che trovo più di frequente nei commenti sotto ai miei video che è quali spese rientrano nella detrazione fiscale sisma bonus 110% Ti invito a iscriverti al mio canale per ricevere le prossime notifiche con l'uscita dei prossimi video ed inoltre una volta iscritto potrai richiedere uno dei tre book che trovi qui sotto in descrizione che sono quelli che possono scaricare gratuitamente chi si iscrive alla newsletter sul mio sito studioingdellaporta.it In descrizione puoi trovare anche le istruzioni per richiedere le book scelto una volta iscritto Prima di approfondire il discorso di quali spese rientrano nella detrazione fiscale sisma bonus e più in particolare sisma bonus 110% in questo periodo è molto più interessante Volevo solo ricordare il limite di spesa massima ammissibile per questo tipo di agevolazione che è di 96.000 euro in caso di edificio unifamiliare oppure di 96.000 euro per ogni unità immobiliare all'interno di un condominio Per capire quali spese rientrano tra quelle agevolabili a seguito di interventi di riduzione del rischio sismico quindi sisma bonus dobbiamo andare a leggere la guida dell'agenzia delle entrate il cui ultimo aggiornamento è a luglio 2019 relativo appunto a sisma bonus e in particolare a pagina 4 Vediamo adesso appunto ho fatto una ricerca semplicemente su google con guida agenzia delle entrate sisma bonus e ci troviamo in questa pagina andiamo alla pagina 4 scorriamo velocemente ecco qua questo è il punto che ci interessa come vediamo l'agenzia delle entrate dice che se sullo stesso edificio vengono effettuati interventi di natura diversa per esempio interventi antisismici e lavori di manutenzione straordinaria e aggiungo io anche ordinaria chiaramente il limite di spesa agevolabile è unico 96.000 euro annuali in quanto è riferito all'immobile si fa riferimento alla risoluzione 147 del 29 novembre 2017 della stessa agenzia delle entrate c'è anche un'ulteriore precisazione dice che anche per i lavori antisismici come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore adesso collegati si fa sempre riferimento alla risoluzione 147 del 2017 la detenzione prevista per interventi antisismici può quindi essere applicata per esempio anche alle spese di manutenzione ordinaria quale tinteggiatura, intonacatura e rifacimento di pavimenti e anche straordinaria che sono necessarie al completamento dell'opera ok per completezza adesso andiamo a vedere un attimo che cosa dice la risoluzione 147 del 2017 dell'agenzia delle entrate allora come sempre ho fatto una ricerca molto banale sopra su google arriviamo alla risoluzione dove la domanda che è stata posta dal richiedente è relativa a una ristrutturazione di un fabbricato eseguendo una ristrutturazione edilizia in zona sismica 2 e che otterrà una riduzione del rischio sismico di una classe, di una classe inferiore e chiede la domanda tra le altre è appunto se può inserire in detrazione anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a pagina 6 ecco qua la risposta dell'agenzia delle entrate è questa qui quanto al secondo quesito che è quello appunto relativo al discorso delle spese per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche possa valere il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelle di categoria inferiore adesso collegati e correlati la detrazione prevista per gli interventi antisismici quindi può essere applicata anche le spese di manutenzione straordinaria quindi quanto è stato poi richiamato all'interno della guida dell'agenzia delle entrate del luglio 2019 si specifiche anche che chiaramente il limite di spese rimane fisso ai 96.000 euro in quanto queste spese sono riferite ad un unico immobile a pagina 7 c'è anche un'altra puntualizzazione dell'agenzia delle entrate dice che nel predetto limite di spesa non sono compresi gli interventi di riqualificazione energetica per i quali poi diciamo uno può beneficiare eventualmente della detrazione fiscale del 65% riassumendo le spese che si possono portare in detrazione con fiscale e con il sisma bonus sisma bonus 110% sono tutte quelle relative chiaramente agli interventi di riduzione del rischio sismico ma anche le manutenzioni ordinare gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria che servono a completare l'intervento stesso sempre chiaramente nei limiti di stabilità legge quindi la spesa massima ammissibile che ricordo è 96.000 euro per gli edifici unifamiliari e 96.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari all'interno di un condominio se ti è piaciuto il video lasciami un like scrivimi nei commenti se hai qualche domanda grazie a tutti